Ma chi l'avrebbe detto mai, com'è volato il tempo? La vita forse va così, ti affianca e ti sorpassa, e tu che tiri dritto, che sembra sempre di andar piano, e invece insegui la tua strada, e sei arrivato fino a qui, ma chi l'avrebbe detto mai? Grazie a tutti, con il cuore a tutti quanti, a chi mi vuole bene, chi mi ha insegnato a guardare avanti, ed anche a chi mi ha fatto male, mi è servito per capire. Grazie a chi mi ha detto no, a un sorriso sconosciuto, a una donna ad un amico, e a quella porta chiusa in faccia, a chi non mi ha tradito quella volta. E' una questione d'ironia, se vuoi sdrammatizzare, e quando pensi di sapere, hai ancora da imparare, se corri e arrivi più veloce, forse perdi delle cose. Con il cuore a tutti.